Occupiamoci ora di scuole Covid. Dopo la lettera del prefetto di Potenza e i sindaci della provincia sulle ordinanze per la DAD, i primi cittadini non sembrano orientati a fare passi indietro. Viviana Pentangelo. Ordinanze che manifestano vizi di legittimità ed eccesso di potere. È così che il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha definito i provvedimenti con cui alcuni sindaci della provincia, ma non solo, hanno deciso di non riaprire le scuole dopo le festività, preferendo mandare in DAD gli studenti. L'invito di Campanaro a ripensarci sembra però non aver convinto i sindaci che confermano le proprie scelte per la riapertura. Lunedì 17 per tutti, tranne il comune di Avigliano che ha indicato giovedì 20. Il motivo è semplice. In diversi comuni interessati, Latronico ad esempio, gli screening sulla popolazione scolastica sono ancora in corso. In altri, come Moliterno, sono in programma questo sabato e domenica. In altri ancora si è preferito approfittare di questi giorni di lezioni non in presenza per fare open day vaccinali sul territorio, non solo per le fasce pediatriche. È il caso di Avigliano, dove sono previste giornate vaccinali sabato 15 e domenica 23 nelle frazioni. Ma anche di Genzano o Lavello, dove sabato saranno somministrati i vaccini e domenica ci sarà la campagna di tamponi. A Lauria, invece, la riapertura sarà graduale in base ai risultati dello screening. Già in presenza da ieri l'Istituto Professionale Ruggero. Tutti gli studenti saranno comunque in classe lunedì a test ultimati. Secondo i sindaci, dunque, nessuno sgarbo istituzionale, ma solo precauzione.